ciao ragazzi sono tornata purtroppo il video di prima grazie a dio stava quasi finendo è stato interrotto da una telefonata e quindi ho pensato almeno di darvi un saluto ecco qua io spero di essere stata sintetica un po che ho sintetizzato diciamo di avervi fatto capire un po come funziona il nostro corpo con lo stress e quant'altro però questo è nell'altro video e non sto qua a ripetere le cose perché vi annoierei soltanto e cosa dire chiedo ancora scusa se ho usato dei termini magari non penso però sbagliati per quando parlato della ghiandola subrenale e del cortisolo e comunque spero che sia stato chiaro con questo vi auguro una buona giornata e buongiorno mondo e buongiorno pazzi